Amici del software libero open source, ben ritrovati in questo nuovo video che si rende necessario per fare una doverosa precisazione. Nel video di ieri vi avevo parlato del nuovo App Center presente su Ubuntu 23.10 e vi avevo detto, erroneamente, perché non avevo notato effettivamente questa possibilità, vi avevo detto che questo nuovo App Center non consentiva l'installazione e la gestione delle applicazioni in formato DEB. Però in realtà non è così, perché mi è stato fatto notare da uno dei lettori di Marcosbox che mi segue su Mastodon e c'è la possibilità effettivamente anche di installare applicazioni in formato DEB, anche se non era in prima battuta. Se vi faccio vedere adesso, se io vado a cercare VLC, c'è un filtro, qui è possibile personalizzare e mettere per pacchetti Debian e quindi possiamo anche installarci la nostra applicazione. Quindi sì, consente anche l'installazione di applicazioni in formato DEB e non soltanto SNAP come vi avevo detto all'inizio. C'è da dire che l'opzione non è che è messa in primo piano, non ci sono anche impostazioni. Sarebbe stato bello, se io selezionavo qui, sarebbe stato bello come fanno altri store, come quello di PopOS, se non ricordo male, che ha il segretore per selezionare se volete installare la versione Fiat Park oppure tradizionale. Ecco, sarebbe stata carina mettere anche l'opzione qui. Bene, se uno va a cliccare involontariamente su un'applicazione, così vede soltanto i pacchetti in formato SNAP. Non vede, devo proprio andare a cercare in Transmission. Ecco, vedete, poi compare anche i pacchetti Debian. Io ieri quando facevo le ricerche non mi compariva mai questa opzione. Quindi noi possiamo andarci a installare l'applicazione in formato DEB, anche dal nuovo App Center. Non è possibile comunque gestire l'applicazione in formato DEB installato, perché se andiamo su gestisci, come potete vedere, troviamo soltanto le applicazioni in formato SNAP. Quindi, benino, devo fare le mie scuse a tutti voi lettori, per avervi dato un'informazione errata, ma soprattutto devo fare le mie scuse anche a Canonical, che l'ho accusata ingiustamente. Anche se, capiamoci, se tu presenti uno store di questo tipo, mi fai capire che lo SNAP è tutto incentrato sullo SNAP. E poi, non lo so, io, né ieri né ieri, né ieri, forse saranno stati qualche problema a momentaneo, quando andavo a cercare a filtrare un'applicazione, non mi comparivano le applicazioni nella ricerca in formato DEB. E non avevo, di conseguenza, visto nemmeno quella opzione in seconda battuta. Comunque, dicevo, benino il comportamento dello store, benino perché avrei preferito una cosa più paritaria tra i due tipi di applicazioni, ma soprattutto avrei preferito la possibilità di gestire gli aggiornamenti anche dall'app center. Un saluto a tutti quanti e ci rivediamo in un prossimo video di Marcosbox. Ciao ciao.